Ciao a tutti e benvenuti. Spiace certo per l'infortunio a Messias, mancherebbe altro, spiace molto. Può succedere quando fai un percorso riabilitativo e cambi metodo di lavoro, può succedere che ci sia una scoria, una sorta di strascico, può succedere. Non dobbiamo e non bisogna drammatizzare, abbiamo dimostrato che si può convivere con infortuni che ci sono dappertutto, perché Unas del Napoli durante questa sosta ha riportato un problema che lo ferma un mese e invece un po' prima, dopo una ventina di giorni, nei non un mese, dovrebbe rientrare Messias. Quindi spero che non ricominci il drammone che ha preceduto Atalanta-Milan, anche se in fondo porta buono, perché tutte le volte che c'è il caos infortuni, l'emergenza infortuni, l'incazzatura infortuni, poi la domenica si vince e quindi magari dal punto di vista scaramantico hai visto mai. Peccato anche per la nazionale under 20, lasciata Daniel Maldini con un'infiammazione al tendine Rotulio, non sembra nulla di grave, è chiaro però che anche Daniel Maldini è un trequartista, per cui la caratteristica peculiare dei nostri infortuni a volte succede anche agli altri. Nella stessa partita hanno avuto due infortuni muscolari di Bale Morata e Allegri, li ha gestiti alla grande battendo Chelsea e Torino. Pioli è da tempo che sa gestire alla grande queste situazioni, queste circostanze, anzi, quando poi Pioli si fa venire delle idee, cambia le cose e le cose vanno anche meglio, per cui direi che si deve prenderne atto, il problema di Calabria potrebbe addirittura essere risolvibile per Milan-Verona, per cui mi sembra che fino a questo momento, a meno di acchiappafantasmi e di altre figure fatate, non dovrebbero esserci altri problemi. Magra consolazione sarebbe dirvi, visto che non si fanno male solo i 35 anni o i 39 anni o i 40 anni, anche i ragazzi, conta poco, questo lo sappiamo. Nel caso di Messias però mi preme sottolineare che non si tratta di nulla di strutturale, perché questo ragazzo non ha una carriera lunghissima alle spalle, ma in qualsiasi serie ha giocato, ha sempre giocato più di 30 partite e in due anni al Crotone ha fatto 70 presenze, prima 34 e poi 36, per cui non si tratta di un giocatore tendente agli infortuni, incline agli infortuni, uno di quei giocatori chilometrati o usurati che spesso nella vulgata, con un termine che detesto, vengono definiti rotti, perché un problema muscolare che si riesamina fra dieci giorni e che in venti giorni si assorbe non significa essere rotti, significa aver iniziato un nuovo percorso ed entrare in una nuova logica, in un nuovo metodo di lavoro. Certo, ci saranno altri straordinari per Brian Diaz, ma ripeto, abbiamo avuto le outre quartista in occasione delle partite di gennaio della scorsa stagione, sappiamo che sale e me che sia molto d'utile, insomma, qualcosina, c'è Ben Nasser che può fare il trequartista, che sì pure, qualcosina il nostro allenatore, al momento del dunque, si inventerà sicuramente. Lasciatemi introdurre OneFootball che con il suo brand e il suo portale è presente in questo canale YouTube, OneFootball ha una app che potete scaricare gratuitamente dalla descrizione di questo video, è molto semplice, i contenuti sono molteplici, è una app dinamica connessa, l'app di OneFootball vi propone anche gli highlights della serie A, tutti gratuiti, tutti i video, tutti i contenuti video, gli highlights di OneFootball sono assolutamente gratuiti, l'app vi aspetta. Il titolo però non è sugli infortuni, ma sul ritorno che ha fatto al Festival dello Sport, della Gazzetta dello Sport, al Teatro Sociale di Trento, Marcello Lippi, sulla finale del 28 maggio 2003. Sono convinto che se ci fosse stato Nedved avremmo vinto quella partita. E' ormai diventato, non me ne voglia Lippi, mancherebbe altro, CT campione del mondo nel 2006, quindi chapeau totale e alla grande, ma ormai è diventata... a me mancano molto le favole della nonna, me le raccontava tutte le sere e senza da bambino, bambino, bambino e senza la favola della nonna non riusciva a dormire. Ecco, il secera Nedved rende sempre giovane una partita della quale fra un anno e mezzo abbondante festeggeremo il ventennale, cioè noi il 28 maggio 2023 festeggeremo il ventennale di Milan-Juventus, l'unica finale tutta italiana della storia della Champions League all'Ultrafford di Manchester e... lo ricordo perché magari qualcuno se lo dimentica... e quindi inizia a diventare piuttosto vecchiotta, ma questo tormentone di secera Nedved la rende sempre giovane, la rende sempre una ragazzina quella finale. Sta per compiere... ne ha già compiuti 18, già diventata maggiorenne. Va verso i 20, ma è sempre giovane, giovane, giovane come una bimba di pochi mesi, per via di Nedved che aveva ricevuto il giallo nella semifinale di ritorno fra Juventus e Real Madrid con la Juventus ormai sicura della finale, a pochi minuti dalla fine, e certamente Nedved era un giocatore importante per quella Juventus, certamente. Certamente un impatto sulla finale può averla avuta, ma attenzione, pochi mesi prima, marzo a San Siro, il Milan aveva battuto la Juventus 2 a 1 con i gol di Inzaghi e Shevchenko e Nedved c'era. Quindi non si può mai dire, non si può mai dire che cosa effettivamente sarebbe successo se ci fosse stato Nedved. Poi comunque le due squadre erano forti uguali, il Milan aveva vinto il girone di ritorno, è andata, la Juve aveva vinto il girone di ritorno, ci aveva distanziati, la Juve era molto forte, non aveva nemmeno festeggiato lo scudetto perché era totalmente mentalizzata e concentrata sulla finale di Manchester, poi è andata come è andata, ma era un Milan forte quello, era un Milan, ricordo insomma, Nesta e Maldini centrali di difesa, avevamo Gattuso, Pirlo, Zedorf in Gran Spolvero, avevamo uno dei più grandi portieri del mondo in quel momento di Ida, avevamo Rui Costa in Zaghi e Shevchenko, cioè per carità, massimo rispetto per Nedved, ma ce n'erano tanti anche nella Juve di Nedved in campo in quella serata, è vero che la componente della Juventus era più muscolare, più atletica che tecnica e magari un giocatore dai colpi dai guizi di Nedved poteva loro far comodo, senza dubbio, non c'è problema, però sapete quando sei nei dibattiti televisivi ricordi la Champions che hai vinto ad Atene nel 2007 e ti dicono che è pre-storia, se è pre-storia il 2007 lo sarà maggior ragione il 2003, ma te la rendono sempre attuale con Marcello Lippi che ha vinto di tutto nella sua carriera, però evidentemente quello è ancora un nervo scoperto, lo capisco, lo capisco dal suo punto di vista professionale e competitivo, sul piano nostro più umano, più fazioso, più tifoso, è chiaro che più viene detta questa cosa di se c'era Nedved più il tifoso milanista evidentemente, gode e torna a godere di quella finale di Manchester del 28 maggio del 2003, ha parlato Giroud, ha detto tante cose, iniziamo a pensare a Milan-Verona, il Verona sta recuperando Veloso, non si sa se recupererà Ilic che aveva avuto un problema muscolare, capita anche nelle altre squadre, aveva avuto un problema muscolare Ilic che è un bravo giocatore, piace molto Ilic del Verona, ha avuto un problema muscolare nelle ultime partite della squadra gialloblu, anche se non è 35enne o 40enne l'ha avuto e quindi è probabile che se dovesse recuperarne entrambi, se dovesse Tudor, ne schiererebbe uno, in questo momento è in vantaggio Veloso su Ilic, vedremo, abbiamo tutta la settimana per scoprirlo, grazie a tutti, ci vediamo domani per la rassegna stampa, volevo semplicemente segnalarvi, se vi interessa che questa sera sarò su Rai 2, a quelli che è il calcio attorno alle 22 e quindi ho questo appuntamento di carattere televisivo che è importante, sicuramente importante, che condivido con voi. Ciao a tutti, ci vediamo domani per la rassegna stampa.